E' di che classe è? Del 34 Sono vecchietto per tante noviste ma come lei bravissimo Vabbè è energico eh? Vabbè pure io non ho tantissimi anni Non è possibile essere cose Nessuno dice niente che sa gente Carina complimenti Sei in gamba sei giovane sei bella Io ci provo però guardi che loro sono bravissimi Beh ma tu sei maestra sei eh Ci proviamo dai Ma te lo dico io per esperienza Sono vecchietto io tesoro mio Sono vecchio io Ho visto tante persone ma come te Sei in gamba veramente sei Ci provo Buone cose tante ovvie Tanta salute tesoro mio Sei in gamba sei Grazie E' un applauso Giovane bella e brava Oh